In Italia si stimano circa 5.000 traumi distorsivi alla caviglia al giorno, negli USA 23.000. Il 45% Distorsioni La distorsione alla caviglia è il più frequente trauma muscolo-scheletrico dell'arto inferiore e ha una maggiore incidenza nelle donne. Le distorsioni recidivano frequentemente. Gli sport tipici sono legati al salto e al rapido cambio di direzione, la pallavolo, 56%, basket, 55%, calcio, 51%, e la corsa di resistenza, 40%, perché spesso è associata a terreni non particolarmente agevoli. Le distorsioni della caviglia si presentano con diversi stadi di gravità. Gli stadi di gravità possiamo definirli secondo la lesione anatomica che il trauma distorsivo causa sull'articolazione. Gli stadi di gravità Gli stadi di gravità